È appena finito il Toccatì a Verona, il festival internazionale del gioco di strada e io sono felice ed onorato che questa manifestazione si svolga a Verona ormai da anni e non è un caso che sia ospitato proprio in questa città. Qui infatti troviamo una serie di chicche gustose ed interessanti legate al gioco come le scacchiere scolpite all'interno dell'abbazia di San Zeno e dentro il chiostro del Duomo segno che anche nei potentissimi monasteri di Verona i monaci potevano trovare il tempo per giocare un po' assieme e sempre segno di un gioco sono i mille mila buchi che adornano gli altorilievi fatti sulla facciata della Basilica di San Zeno scavati da bambini con pietre, sassi e la qualsiasi per sentire l'odore di zulfo che ne sprigionava. E qua in piazza, secondo Berto Barbarani, si giocava al tamburello, alle battaglie e a mille e mille altri giochi. E ti dirò di più. Goethe, il grande poeta, scrive nel suo viaggio in Italia che qua a Verona, in via Pallone si giocava alla palla, che era praticamente una specie di tamburello giocato con dei grossi polsini di legno. L'autore tedesco ci racconta che proprio in quest'area, quando lui arrivò a Verona, si stava giocando il derby. Verona contro Vicenza e gli animi erano già molto 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 accaldati. Ma non c'è solo il gioco giocato, c'è anche il gioco intellettuale. Come quello, creato da Giovanni Francesco Carotto, nella tela del ritratto di fanciullo con disegno. Forse il bambino è il figlio dell'artista, che mostra con orgoglio al padre il ritratto che ha fatto per lui. Quasi a dire, guarda papà, anch'io sono un artista come te. Aspè, mi sono appena ricordato di una cosa a San Zeno che devi vedere. La ruota della fortuna A dire la verità, niente a che a vedere con il programma del grande Mike, ma qualcosa che più o meno ci assomiglia. La raffigurazione di quello che accade se si lascia che la propria vita sia soltanto gestita dalla fortuna. Un po' da caso. Anche l'imperatore, il più potente fra gli esseri umani, può precipitare dal suo trono e ritrovarsi nudo e schiacciato dalla cattiva sorte. E di contro, può ritornare al suo posto se il vento gira ancora. Ancora oggi la grande ruota sembra mandare un messaggio. Gioca, va bene giocare, divertiti, goditi la vita anche sotto questo aspetto, però non lasciare mai che le cose importanti della vita siano soltanto in mano alla fortuna o al caso. E anche questa mi sembra una bellissima regola del grande gioco della vita. Tana per tutti!